Nuovo appuntamento con facciamo finta che speciale sentiero di Atlantide con Nicola Bizzi bentornato come stai? Tutto bene Gianluca un saluto a tutti gli ascoltatori sono giornate concitate tra perché ci segue anche eh live siamo tra il compleanno le manifestazioni di piazza insomma è un periodo bello pieno ma non ci non ci risparmiamo e questa questa puntata fra l'altro colgo l'occasione per ringraziare chiunque sia venuto sia al compleanno che eh quest'oggi nella manifestazione a Milano eh perché un abbraccio ai fedelissimi ai veterani alle ondate di home siamo tanti facciamoci riconoscere anche in chat e poi per questa sera faremo una sorta di eccezione anche ritorno alle origini perché interrompiamo momentaneamente il percorso del sentiero di Atlantide perché dobbiamo fare un po' il punto sulla situazione ultimamente siamo stati molto presi ed è da un po' che non ci fermavamo io e Nicola a discutere un po' a cercare di unire i puntini alla fatidica domanda che cosa sta succedendo a che punto siamo cercando di aggirare un po' le fake news chi vuole cavalcare l'onda chi vuole salire sul carro del vincitore chi semplicemente prende un po' in giro per gusto di like per ego per altri interesse la massa e allora Nicola chiedo a te che cosa sta succedendo facciamo un po' un quadro per chi ci segue live un quadro odierno per gli amici del futuro potrete poi in realtà cercare di unire un po' i puntini Nicola a te sì era tanto che non facevamo un po' un quadro della situazione d'altronde non esiste solo la storia passata anche il presente che stiamo vivendo è emblematico sarà storia noi stiamo vivendo la storia in un certo senso la storia siamo proprio noi in questo momento perché stiamo vivendo un momento epocale un momento epocale di cambiamento questo lo abbiamo detto più volte e lo abbiamo anche spiegato in termini astronomici in termini astrologici in termini cosnici e quindi stasera non ci ripeteremo a dare queste spiegazioni vi invito a vedere il tutti i video precedenti e torneremo a parlare dei grandi misteri del passato dalla prossima settimana e oggi ci concentreremo invece sui misteri del presente perché sta succedendo veramente di tutto io in alcune puntate quando ho parlato di atlantide e del grande cataclisma che c'è stato decine di migliaia di anni fa oltre diecimila anni fa ho parlato spesso di una amnesia di una amnesia patologica di cui soffre il genere umano per quanto i segni di questo grande cataclisma che ha traumatizzato l'intera umanità annientando completamente la civiltà siano rimasti ovunque nelle tradizioni popolari nella mitologia a livello psicologico la maggior parte dei sopravvissuti a certi disastri del passato ha cercato di rimuovere il ricordo di rimuovere il ricordo doloroso il ricordo traumatico e questo è clamorosamente quello che la maggior parte degli italiani si ritrova ad aver fatto alla luce di quello che è successo negli ultimi due anni è sconvolgente adesso le persone si stanno esclusivamente preoccupando dei rincari energetici delle bollette e questo è anche giusto per carità ma sono andati a votare con una tutta serenità come dire adesso siamo tornati alla normalità torniamo a votare i nostri politici torniamo alle nostre abitudini e chi vanno a votare che sono andati a votare sono andati a votare quella stessa classe politica che pochi mesi prima ha imposto agli italiani l'apartheid ma ce ne rendiamo conto io non non giustifico gli errori gli sbagli di tanti regimi del passato che giustamente vanno storicamente analizzati e condannati quando vanno condannati ma è riemersa con queste elezioni la sterile retorica fascismo antifascismo a le leggi di qua le leggi di là perché il fascismo ha discriminato parte dei cittadini italiani e il governo draghi che cosa ha fatto sembra che non sia successo niente adesso adesso le persone stanno conducendo la loro vita come se niente fosse se ne vanno al bar se ne vanno al supermercato se ne vanno all'ufficio postale se ne vanno in banca se ne vanno in palestra se ne vanno a fare la partita di calcetto prendono un aereo prendono un treno prendono un traghetto e non si ricordano che la maggior parte di loro fino a pochi mesi fa non poteva prendere un treno non poteva prendere un traghetto non poteva entrare in un cinema non poteva andare in palestra non poteva fare niente neanche andare in un bar a chiedere un bicchiere d'acqua ma tutti questi italiani tutti questi nostri concittadini che se ne vanno adesso serenamente la mattina al bar a prendere i caffè che se ne vanno al supermercato che fanno che conducono la loro vita non si ricordano o quantomeno hanno rimosso il fatto che la maggior parte di loro fino a pochi mesi fa non poteva fare niente di tutto ciò non poteva andare al cinema non poteva andare in palestra non poteva salire su un treno non poteva salire su traghetto non poteva prendere un aereo non poteva condurre una normale vita sociale in confronto non poteva andare a lavorare non poteva andare a lavorare ora ci sarei arrivato dopo il tema del lavoro è un altro tema scottante che intendo affrontare oggi il governo draghi che certi personaggi del della che si atteggiano a contro informatori o comunque al fieri di una certa contro informazione continuano a difendere io sento cose raccapriccianti del tenore è draghi in realtà è il salvatore draghi in realtà ha fatto il gioco di sponda ha fatto il doppio gioco draghi in realtà ha combattuto il grande reset draghi di qua draghi di là draghi ci porterà alla liberazione ma questo è delirio allo stato puro ammesso e non concesso che un personaggio come draghi che è un criminale incallito un vide affarista come lo definì così un personaggio la cui vita è costellata di crimini finanziari e non lo dico io lo potete trovare ovunque andando a scavare sulla vita di draghi dal britannia fino alla distruzione dell'economia italiana seguita a tangentocco un personaggio come draghi ammesso e non concesso che come dicono certi personaggi del di youtube abbia fatto il doppio gioco e in realtà si sia secretamente schierato con la cosiddetta alleanza io ho solo una parentesi perché in realtà quando tu mi dici ma quando intanto la stessa cosa di draghi poi sta accadendo anche per conte ma io non giustifico l'idea perché se qualcuno avesse una sua idea è giusto che la porta avanti io dico che queste cretinate le portano avanti dei blog di terzo ordine americano in cui qualcuno prende traduce non sono neanche idee sue che dici hanno fatto un proprio lavoro è un'idea e io la rispetto in quanto tale io l'ha perso bianco qualcuno la penserà nero e va bene così ci sta nella democrazia un doppio pensiero a me spiace quando in realtà queste come tante altre nel corso di questi due anni arrivano da blog di terzo ordine che qualcuno ha tutto l'interesse a tradurre e poi chi per ego chi per visual e chi magari anche dei degli interessi ma non sono di sicuro quindi quando dice ma tu attacchi io attacco la fonte poi chiunque la riporti mi spiace se si sente in qualche modo coinvolto ma io non ce l'ho con i pesci piccoli io ce l'ho con chi in realtà fa partire un determinato pensiero dai dai piani alti ecco questa era una giusta precisazione è vero guarda ci sono dei blog soprattutto negli stati uniti o dei siti ce n'è uno che non voglio menzionare per non fargli pubblicità che è due anni che ma continuamente fa articoli di questo tenore giustiziato george bush impiccata la hillary clinton sono finiti tutti a guantanamo in realtà sono dei sosia perché il tutto un grande teatro e stanno sostituendo quelli che condannano con i sosia perché non li fanno un processo pubblico cosa aspettano se è vero a dire la verità va bene sì noi viviamo in una matrix da 20 mila anni quantomeno per certi aspetti tutto quello che ruota intorno a noi è un grande teatro però continuare a credere ciecamente a certi blog che sostengono che tizio e caio che i vari bill gates i vari soros i vari hillary clinton harry kissinger siano stati giustiziati quando poi li vediamo tranquillamente in dibattiti e in conferenze per carità ci sono anche i sosia ci sono le maschere di gomma è provato che biden sia stato spesso sostituito da personaggi che indossavano una maschera di bomba per carità quello è vero ma cerchiamo di essere razionali di analizzare le notizie ora io volevo focalizzarmi prima di passare ad altro proprio su questa amnesia terribile che sta colpendo gli italiani tutta questa enfasi per il cosiddetto ritorno alla normalità che poi non è un ritorno alla normalità è un ritorno alla è un ritorno al pieno asservimento all'oligarchia politica un'oligarchia politica che non ha alcuna autonomia decisionale la cui cabine di le cui cabine di regia sono altrove una politica quindi che non può fare a prescindere i beni e gli interessi degli italiani perché è etero diretta quindi questo pseudo ritorno alla normalità che poi non è vero non esiste perché ci sono ancora delle sacche di repressione pandemica di cui parlerò fra poco è semplicemente un ritorno alla sudditanza di questa oligarchia e le persone l'hanno preso con una tale spensieratezza che si sono dimenticate dei crimini condotti e perpetrati da questo governo e dal governo precedente le persone adesso vanno a inneggiare nelle pubbliche piazze a personaggi come Giuseppe Conte ma voi vi siete dimenticati che Giuseppe Conte è quello che ha scatenato il lockdown è quello che ha messo su il comitato tecnico scientifico è quello dei bollettini quotidiani che hanno scatenato il panico e permesso questa questa grande psyop è quello che ha messo speranza alla sanità è quello che pretendeva che firmaste le autocertificazioni quello che vi impediva di uscire di casa a oltre 200 metri dalla vostra abitazione io dico vi impediva perché uscivo lo stesso io me ne fregavo non mi hanno mai fatto una multa io non ho mai rispettato lockdown non ho mai rispettato coprifuoco e l'ho fatto con orgoglio non mi sono mai scontrato una sola volta con le forze dell'ordine mi sono a parte qualche vicino urbano mi sono solo scontrato purtroppo con tanti miei con i cittadini che mi ritenevano faccio un inciso Nicola faccio un inciso perché su questo ci tengo la nostra linea abbiamo da poco festeggiato i due anni ecco se vi va di andare a confrontare quanto noi abbiamo detto dalla prima ora ma era era non più tardi di un anno fa che e questo era esattamente quello che quello che noi diciamo oggi lo dicevamo due anni fa e un anno fa con gli stessi blog americani che davano false informazioni con giuseppe conte che non faceva le conferenze stampa che appariva tre quattro ore dopo magari di notte alle volte il culmine l'ha toccato quando andava su facebook con le bimbe di conte che gli mettevano i cuoricini e lui aggirava i giornalisti finché qualcuno ha detto comunque state esagerando quindi hanno fatto sono passati a fare delle finte conferenze stampa e me ne prendo anche la responsabilità in cui c'erano pochi giornalisti scelti che in combutta con casalino sceglievano delle domande facili ma questo modus operandi vi posso garantire che si fa in tutti i piani io lavoro nelle tv locali e non era affatto raro per non dire che accadeva sempre che quando passasse magari il sindaco della città di torino si scegliesse le domande e quelle a cui non sapeva o non voleva rispondere il suo ufficio stampa gliele scartava per arrivare poi con le risposte studiate a memoria e il giornalista si guardava bene dall'interrompere perché se no perdeva il filo quindi in realtà queste cose io ci vedo comunque e spero che ci riconosciate una coerenza orizzontale perché poi sentiamo va bene ma conte basta che chiede scusa e viene con noi no è un po come la ronzulli che dice no vabbè no vax abbiamo esagerato da entrambe le parti facciamo pari e patta no io mi sono segnato tutte le dichiarazioni della ronzulli fatte quando è iniziata la campagna di certi sieri quando è iniziato il nazi pass la ronzulli ha fatto delle affermazioni raccapiccianti a livello di di joseph gebbels potremmo veramente paragonarle a dichiarazioni di gebbels e l'alicia ronzulli adesso pensa di di passare la liscia no di uscirne pura candida cioè io non sono stato due anni in trincea ogni volta che uscivo di casa rifiutandomi di indossare una museruola mi sentivo in trincea perché mi toccava litigare con la gente per strada che spesso evitavo proprio ma a volte mi ci prendevo perché volevo vedere dove arrivava l'idiozia e il lavaggio del cervello di certe persone persone che adesso invece mi danno ragione e questa è una delle cose più gratificanti che veramente possano esserci ci sono persone che che io non conosco vicini di casa con cui io prima non avevo mai scambiato una una parola se non neanche un buongiorno e che si sono permessi di offendermi e di attaccarmi per strada perché non portavo una museruola persone che adesso sono venute negli scorsi messi a scusarsi con me dicendo guardi io le devo parlare io mi scuso se una volta sei mesi fa mi sono permessa di dirgli questo questo è quello l'odio a queste persone perché vuol dire che hanno cominciato a ragionare anche se io non giustifico le offese che mi hanno rivolto gli attacchi che mi hanno rivolto ma quello che mi sorprende che mi lascia veramente non sconvolto perché non mi sconvolge più niente è l'amnesia della stragrande maggioranza del popolo italiano tutte queste persone non solo quelle che sono andate a votare ma quelle che adesso conducono normalmente la loro vita si dimenticano di cosa l'italia ha subito negli ultimi due anni e mezzo la restrizione di tutte le libertà democratiche la restrizione di tutte le garanzie costituzionali la libertà di pensiero la libertà di espressione la libertà di associazione la libertà di movimento sul territorio nazionale le persone si sono fatte mettere al confino si sono fatte mettere agli arresti domiciliari in silenzio e hanno giustificato tutto questo e adesso vanno ancora a ragionare a litigare su questioni di stellire retorica sui regimi del passato quando neanche sanno la storia e quando neanche conoscono il passato non ci meravigliamo se con un popolo così siamo finiti al tempo del governo conte in questa morsa ma il governo conte è quello che ha commesso dei crimini da Norimberga non si può adesso osannare conte nelle piazze e dire a conte sì perché perché difende che cosa il reddito di cittadinanza ma lo sapete che cos'è il reddito di cittadinanza a parte il suo stesso nome è agghiacciante se fosse stato fatto passare come contributi sociali per le persone disagiate avrebbe avuto un senso contributi sociali per le persone senza lavoro avrebbe avuto un senso il chiamarlo reddito di cittadinanza si collega decisamente ai programmi del grande respetto da bossiano perché il reddito di cittadinanza non vi ricordate è l'agenda duemilatrenta no duemilatrenta saremo tutti felici non possederemo più nulla e avremo tutti una rendita minima di stato quello è l'esperimento pilota della rendita minima di stato altrimenti il l'entourage distopico orwelliano di casa della casaleggio associati non lo avrebbe chiamato reddito di cittadinanza il lavoro deve essere il vero reddito di cittadinanza perché questa nazione pretende di aver scritto un articolo costituzionale che è l'articolo 1 in cui dichiara che l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro l'italia ha già messo da parte una democrazia che non ha mai applicato in realtà l'italia è una oligarchia punto e basta e ha messo da parte il lavoro l'italia ha messo da parte il lavoro e lo dimostra l'apartheid dei nazi pass il lavoro è stato il diritto al lavoro è stato definitivamente accantonato e non dimenticatevi che i nazi pass che è ancora in vigore per andare a trovare i parenti in ospedale anche qui siamo la follia non è stato accantonato del tutto come non sono state accantonate del tutto le misure pandemiche le misure restrittive ci sono ancora tantissime aziende che in tutta autonomia perché il governo che gli ho permesso il governo ha lasciato campo libero alle aziende per decidere in tutta autonomia se continuare a mantenere le museruole per i propri dipendenti al lavoro e ci sono centinaia se non migliaia di aziende in italia che ancora impongono ai loro dipendenti la museruola allora io sarò drastico sarò cattivo oggi ma non mi interessa se siamo sull'orlo del baratro economico non mi interessa se queste aziende rischiano di chiudere per la crisi energetica queste aziende meritano di chiudere boicottiamo buttiamo giù una lista di queste aziende segnalateci quelle aziende che ancora impongono ai propri dipendenti di tenere una museruola e boicottiamo i loro prodotti boicottiamo i loro servizi boicottiamo tutto quello che fanno che offrono come prodotto commerciale o come o come terziario perché non è tollerabile che con uno stato d'emergenza che già era illegittimo che già era illegale e che già si è concluso a marzo ci siano delle aziende che uniche in Europa continuano a mantenere le museruole obbligatorie per i propri dipendenti addirittura rifiutandosi di considerare le esenzioni che alcuni dei loro dipendenti hanno avuto regolari esenzioni mediche e lo dico perché mi hanno contattato diversi nostri ascoltatori disperati dicendomi e finora mi hanno tenuto smart working adesso l'azienda mi vuole a tutti i costi rimettere il lavoro fisicamente ma mi impongono la museruola anche se io ho un'esenzione medica non ne vogliono tenere conto io fra l'altro su questo voglio fare un inciso nel senso che per rispetto della della privacy di chi me ha detto sappiate che ci sono anche realtà che si fingono di contro informazione che però ai propri dipendenti hanno imposto i sieri le mascherine e i pass verdi e quando me l'hanno detto sono rimasto veramente esterefatto però mi ha detto ci assumi tu ma io sono una realtà piccolissima quindi mi stupisce ci siano delle realtà che magari da più tempo fanno qualcosa come quello che facciamo noi che si possono permettere cameraman registi e quant'altro però spero che prima o poi così queste persone così come lo hanno detto a me lo dicano pubblicamente che se qualcuno che va a dire qualcosa di simile al nostro davanti alle telecamere dietro richiede i pass i sieri e le mascherine i propri dipendenti perché anche quello io lo vedo come strizzare l'occhio a un mainstream in realtà quelli che criticano di grandi in televisione in realtà perché sognano di essere lì ecco questa cosa io veramente vi invito a vedere perché magari qualcuno è arrivato nuovo vuole capire di che cosa parliamo e allora vi invito a tempo perso non vi posso assicurare che non saranno minuti sprecati ad andare a vedere anche qualche puntata di attualità che è storia quindi già solo sei mesi prima una puntata di attualità è un documento storico perché analizzando gli umori analizzando le sensazioni e le notizie e le voci di corridoio per quanto verificate possibili perché non abbiamo mai seguito lo scupero non abbiamo mai straparlato dicendo abbiamo noi una notizia in anteprima perché la domanda che faccio sempre ma non ti viene in mente che se sei il primo a darla è una minchiata ti viene in mente che altri potevano darla e l'hanno scartata quella notizia perché non è verificata ed è accaduto tante 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 volte e poi se nella vita comunque si può cambiare idea c'è qualcuno che la pensava come noi si differisce per alcune tematiche chissà che un domani in realtà però si possa tornare a fare le stesse battaglie però ricordiamoci che il nemico quello vero è dall'altra parte e dirgli basta che chiede scusa e torna pure con noi no io posso dire chi sbaglia chiede scusa in uno che la pensa come me al 90 per cento e differisce nell'ultimo dieci ma chi dall'inizio è stato dall'altra parte assolutamente no sul reddito di cittadinanza hai perfettamente ragione è il nome che dichiara che è perché chiamala veramente o sussidio per chi non può lavorare ed è sacrosanto c'è una marea di gente che meriterebbe il sussidio e non gli sta arrivando perché è stata usata anche un po come moneta di scambio e piano piano verranno fuori tutte le persone che l'hanno preso e che non avevano i criteri per prenderlo e secondo me non sono casuali hanno anche lì è una sorta di corruzione di stato io l'avrei chiamato integrazione nel senso tu stai lavorando l'azienda o il tuo stile di vita ti danno un part time sei sottopagato allora è giusto che lo stato ti dia un'integrazione di dignità per il lavoro ma incentivando le persone che lavorano perché se c'è gente che fa due tre lavori io non mi fermo un attimo sto sacrificando vita personale vita privata affetti e alle volte veramente faccio questo ma non perché io voglia essere elogiato lo faccio perché veramente ci credo e vedere che lo stato tu più fai e più ti massacra e dire mamma ma stai sul divano ti pago io non rompere le scatole chiedilo hai tutti i diritti stai sul divano ti paghiamo noi invece c'è che dire no bravo che tu hai voglia di fare vuoi fare azienda vuoi dare lavoro a qualcuno vuoi aprire una società perché questo progetto a me piacerebbe farlo crescere ulteriormente e poter dare anche lavoro a qualcuno ma avete presente farlo in Italia ma ci massacrano ti trattano come un delinquente perché tu vuoi fare due lavori e dare lavoro a qualcuno ma vi sembra giusto e poi vediamo un un di maio che dall'alto della sua ignoranza dall'alto del suo arrivismo dall'alto della sua inutilità veramente lui sta facendo il più il più grosso danno l'ha fatto verso la dignità di se stesso andare sui balconi e dire abbiamo sconfitto la povertà ma lo vedi in che mondo viviamo e c'era la gente che applaudiva sotto e io veramente ci vedo un pericolo in questo ritorno di conte e draghi veramente sono in pochi quelli che lo difendono il conte qualcuno qualcuno in più come dici tu il popolo ha la memoria accorta su alcune cose forse per un un sistema di autodifesa ha eliminato il fatto che qualcuno dice se noi abbiamo il pass verde ma ci sediamo fuori così togliamo il posto a qualcuno che non ha il pass che deve stare al freddo deve stare fuori deve patire tutte le cattiverie c'è qualche canale telegram che nome per nome tutte le cattiverie non dobbiamo dimenticare da questo canale partito io non perdono io non dimentico e lo sottolino rivendico questa cosa nel non dimenticare perché in realtà è curioso vedere come adesso anche sui social ci sono delle organizzazioni vicino a rifondazione comunista che fanno i corsi per riconoscere i fascisti e benvenuti e due anni fa dove eravate ma stiamo veramente al ridicolo l'Igiana segre che fa il discorso al senato dicendo è però la costituzione è però i diritti ma tu parli dove eri negli ultimi due anni però questa cosa non deve passare e fra l'altro non deve passare da tutte le parti non solo al partito che c'era già antipatico prima non deve passare anche al partito che magari qualcuno ha simpatizzato perché vedere intere coalizioni dove qualcuno strizza l'occhio qualcuno diceva beh qualcuno ha cancellato i tweet quindi quelle rappresentazioni lì non sono veritiere io l'ho discusso spesso non voglio tediare con meccanismi politici andate sul canale Gianluca Lamberti lì faccio proprio le analisi di che cosa è stato il voto utile perché Meloni non ha realmente il 26 e perché dal giorno dopo si sono aperte le larghe intese e la chiamata ai tecnici c'è un perché se il consiglio è stato di astenersi questa volta perché è palese che l'istituzione politica è stata massacrata attaccata e non per niente di fronte alle facciate del nuovo ci sono sempre stati i vecchi professionisti che negli anni 90 erano già lì e li abbiamo di nuovo al senato e li abbiamo di nuovo alla camera e non ascoltano neanche e gli dicono quando votare se votare quindi ridurne il numero raddoppiare il numero non cambia niente perché avere i propri rappresentanti si leggono la gazzetta dello sport e giocano al solitario si fanno gli affari loro non ascoltano neanche chi propone una votazione e all'ultimo guardano il capogruppo si mettono d'accordo e poi i franchi tiratori è tutto un gioco di forza per lavori interni di cui però della nazione non frega niente a nessuno il tetto alle bollette gli aiuti agli imprese gli aiuti a chi vorrebbe creare lavoro dare lavoro aiutare persone che hanno voglia di fare che hanno voglia di di mettersi al servizio delle persone in questo paese sembra impossibile ma sembra impossibile perché ci sono persone che per disinteresse o per malafede lo rendono impossibile questo è il grande dramma del 2022 di fine ottobre che stiamo analizzando con nicola spero che questi video possano sopravvivere magari anche su altre piattaforme o sulla stessa youtube per per mesi o per anni e che possa sembrare impossibile no a chi magari ci ascolterà fra qualche anno però vi posso garantire che questa è la situazione attuale nicola è drammaticamente la situazione attuale gli italiani hanno dimostrato la memoria corta e adesso si si pascolano in questa pseudo in questo pseudo ritorno alla normalità normalità che non c'è per niente perché a prescindere da queste sacche di restrizioni e io attendo ora con trepidazione la il pronunciamento della corte costituzionale che ci sarà breve sul sulla legittimità di certi obblighi quello che mi stupisce e come gli italiani cadano nel nella rete degli scenari di distrazione di massa questa classe politica adesso pretende o comunque crede nella sua superbia nella sua nel suo delirio di di onnipotenza crede di uscirne pulita hanno architettato un un ritorno uno pseudo ritorno alla normalità soft e graduale in modo che gli italiani lentamente si si abituassero alla alla caduta delle restrizioni e che eh prendessero questa caduta delle restrizioni come un beneficio per il governo da loro che sono italiani che ringraziano draghi veramente nella loro testa malata che dicono a grazie draghi che ci hai permesso finalmente di di viaggiare in aereo senza mascherina grazie draghi che hai tolto le mascherine dai treni ma siete pazzi io ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici questo mese io ho boicottato i mezzi pubblici mi sono fatto tante camminate a piedi mi sono anche svenato a volte con i taxi ma mi rifiutavo di prendere un autobus e di prendere un treno indossandolo ma lo facevo nel principio e io non vengo meno i miei principi non mi sarei mai piegato a mettere una museruola su un autobus e ho ricominciato adesso a prendere i mezzi pubblici invece per la grande maggioranza degli italiani come se niente fosse sì sì va bene e questi questi nostri concittadini cadono nella rete di questi scenari di distrazione di massa il governo ora pensa il governo che adesso lascerà questa classe politica che poi è sempre la stessa che che ha voluto varato accettato votato in alzi pass che ha votato l'apartheid adesso pensa di uscirne pulita creando un nuovo governo e puntando l'attenzione su altri temi e favorendo lo scenario di distrazione di massa come a dire adesso c'è la guerra adesso c'è il gas adesso c'è il caro bollette quindi dimenticatevi tutto quello che è successo prima e gli italiani ci cascano si fanno il retire da questo scenario di distrazione di massa senza considerare che questo governo alimentando io parlo di questo governo ma anche se adesso c'è un cambio fra il governo Draghi che se n'è andato e il governo che deve entrare in carica diciamo questa classe politica questa classe politica e sta facendo il danno del popolo italiano soffiando sul fuoco va bene che l'italia è nel patto atlantico l'italia è nella nato e va bene che l'italia non ha autonomia decisionale su tanti temi e non li ha più dal 45 parliamoci chiaro gli ha ancora meno da quando l'italia ha visto la distruzione della classe politica della prima repubblica che magari si rubava ma che alla fine faceva gli interessi del popolo italiano faceva gli interessi della nazione pur finanziando quelle enormi dispendiose macchine che erano i partiti di allora ma di soffiare benzina sul fuoco il creare questo odio antirusso che ha veramente dell'incredibile il il fatto di inneggiare a un dittatore perché Zelensky è un dittatore parliamoci chiaro è un è un burattino un burattino creato dall'elite internazionali messo lì l'uomo giusto al momento giusto per eseguire certi comuni l'Ucraina è una dittatura in Ucraina non c'è libertà di espressione in Ucraina i giornalisti che si permettono di dissentire sulle follie di questo regime che è un regime che strizza l'occhio al nazismo fin da sempre già dai tempi di Poloshenko l'Ucraina da quando si è resa indipendente è cavalcata ed è governata a fasi alterne ma nella maggior parte dei suoi 30 anni di indipendenza l'Ucraina è stata governata da fazioni politiche che hanno sempre cavalcato il banderismo bandera era un criminale era un vassallo delle politiche naziste sotto l'occupazione e adesso viene fatto passare come un eroe nazionale e è una classe politica che ha sempre strizzato l'occhio a un nazionalismo ucraino esasperato in funzione antilussa e al nazismo e permettendo la organizzazione di interi reparti militari con con ben in evidenza pecce nazisti ma questi sono i beniamini della democrazia agli occhi della nostra classe politica questa mistificazione sta solo esacerbando la speculazione sul gas la speculazione sul caro bollette una speculazione nei confronti della quale questa classe politica non sta facendo niente a differenza della germania che si è resa conto del problema la germania pur essendo nel patto atlantico pur dovendo per facciata strizzare l'occhio alle politiche folli di biden a questa a questo delivio antilusso la germania ha messo sul piatto 200 miliardi di euro non farà pagare le bollette a dicembre coprirà buona parte delle bollette dei cittadini e sosterrà la propria industria la propria industria che questa classe politica invece ha condannato alla chiusura tutti coloro che parlano dell'agenda draghi a noi sosteniamo l'agenda draghi sostengono la chiusura non solo delle piccole e medie imprese ma anche la chiusura definitiva delle nostre industrie ed è inutile che ora la confindustria strizzilotto al governo meloni in pectore nascente che ancora non c'è e che dica sì fate questo fate quello farete questo ci prometterete quest'altro e ora di dire basta a questo delirio pro ucraino e ballate bene io non ce l'ho con i cittadini ucraini e io ce l'ho con la mistificazione della verità un grande storico russo del passato diceva che le guerre sono come il raffreddore le guerre devono fare il loro corso ogni guerra e la guerra non è altro che il proseguimento del è una cosa cinica da dirsi ma non è altro che il proseguimento del della politica sotto altre forme quando la diplomazia smette di funzionare o non vuole funzionare o non le viene permesso di funzionare la diplomazia serve ad evitare le guerre in quanto è possibile ma questo conflitto non era più evitabile parliamoci chiaro qui non si tratta di sposare le ragioni di quello di sposare le ragioni di quell'altro si tratta di prendere atto di come i cittadini russofoni del donbass di quelle che poi sono diventate le autoproclamate repubbliche di lugansk e di donesk siano stati discriminati e perseguitati per otto anni dal regime di chievo che oltre a discriminarli e perseguitari politicamente e socialmente con arresti di massa con discriminazioni politiche con discriminazioni sociali li ha puntualmente bombardati un regime che bombarda i propri cittadini cioè se lo fa se lo fa la la birmania la giunta militare birmana assassina perché bombarda i propri cittadini ci sono movimenti politici in italia che si ritengono anche alternativi che hanno alcuni dei loro rappresentanti sono andati in birmania clandestinamente anni fa attraversando il confine tailandese non voglio fare i nomi tanto vi sapete quali sono e per difendere il popolo Karen terribilmente perseguitato dalla giunta militare birmana e peccato che abbiano omesso di dire che i Karen finanziati da alcune lobby islamiche organizzavano attentati negli uffici postali nelle stazioni ferroviarie negli uffici di polizia e che c'è stata quindi un intervento di un regime che è comunque deprecabile e condannabile volto a contrastare certe azioni terroristiche questo no questo non è stato detto e c'è sempre la deformazione della verità anche da parte di coloro che si ritengono al fieri della controinformazione l'Ucraina è un regime ormai destinato ad impuotere parliamoci chiaro e io voglio è solo questione di tempo io voglio vedere la faccia di certi giornalisti o pseudo tali che ancora oggi sulla RAI sulla 7 sulla Mediaset in questi dibattiti televisivi li ho sentiti anche ieri sera continuano a dire a la Ucraina militarmente ha già finito ormai la Russia militarmente ha già perso questi non si rendono conto di quello che dicono o vivono fuori dalla realtà o chiaramente sono pagati per dire castronerie ma io voglio vedere la loro faccia fra due tre mesi quando il regime di Chieva sarà collassato perché alcuni stati europei si ribelleranno alla crisi sociale innescata dal caro bollette cominceranno a interrompere i finanziamenti verso questo regime a interrompere l'invio di armi che fra l'altro sono state armi in buona parte scadenti non dimentichiamo c'erano i primi mesi di conflitto nei primi mesi di operazione militare speciale russa sono stati inviati sullo scenario ucraino fondi di magazzino destinati allo smaltimento dall'Italia dal Belgio io ho visto video russi dove alcune postazioni militari evidenziavano e filmavano proiettili da cannone italiani degli anni 60 o i più moderni erano del 71 e che i proiettili da cannone hanno la data impressa sopra e il Belgio ha dato all'Ucraina del delle scatole di sardine passandole per mezzi blindati che erano destinate già dal 98 alla rotamazione e che se ne stavano parcheggiate nei depositi militari belgi dal 98 vede proprio scatolette di sardine che al primo colpo di artiglieria si sfondano e si approcciano da perché perché questo è materiale speciale il cui smaltimento costa smaltire il surplus militare soprattutto se si tratta di armamenti e mezzi blindati mezzi corazzati non parliamo poi degli esplosivi costa una barca di soldi perché lo smaltimento di certe attrezzature di certi mezzi necessita di un'operazione particolare di una filiera particolare che è molto costosa invece il mandarlo là e libera ha liberato tante nazioni dallo smaltimento ai costi dello smaltimento e questo materiale è stato poi puntualmente smaltito dalle artiglierie russe poi e ci sono stati gli stati uniti che hanno iniziato a mandare truppe a mandare truppe sotto mentite spoglie ci sono truppe americane ci sono truppe francesi ci sono truppe britanniche ci sono truppe polacche la scorsa settimana nella zona di zaporizia nei pressi della della centrale nucleare attualmente sotto il controllo russo è stata sventata un'operazione militare che avrebbe rischiato veramente di scatenare un incidente nucleare circa 20.000 uomini dei quali nessuno ucraino o forse 10 e forse nato in uniforme ucraina stavano per lanciare una pesante controoffensiva con armamenti nato di ultima generazione per riconquistare quella centrale la chiaramente i russi hanno delle ottime informazioni hanno colpito in maniera selettiva alcuni palazzi dove alloggiavano quelle truppe se la sono cercata io non è che giustifico la morte di migliaia di soldati ma in questo caso se la sono cercata perché a causa delle elevate perdite subite il comando militare nato ha dovuto cancellare quella controoffensiva queste cose non ve le dicono i telegiornali queste cose non ve le dice la cosiddetta libera informazione di regime e spesso non ve le dice neanche la cosiddetta controinformazione come non vi spiegano le origini della speculazione che ha portato ai rincari delle bollette non è certo stata voluta dalla russia ma ogni speculazione per avere dei buoni effetti dei buoni profitti deve essere a tempo difficilmente come mi hanno insegnato dei cari amici può andare oltre sei mesi e questa speculazione già si sta sgonfiando già si sta sgonfiando quindi è molto plausibile che le bollette avranno un calo cominceranno ad avere un calo sia per il costo dell'energia che per il gas già da dicembre quindi cerchiamo di stare allerta cerchiamo di capire cosa veramente succede e diffidiamo di chi continua a soffiare sul fuoco di chi continua a buttare benzina sul fuoco perché mai come ora ci siamo ritrovati sull'orlo di un terzo conflitto mondiale non certo per volontà della russia ma per volontà di una ricca di criminali che siede a washington in maniera tra l'altro abusiva e che continua a inviare risorsi finanziamenti armamenti a regime di chiede giocando a un a una sorta di risico fino all'ultimo ucraino perché questa cricca criminale che vive a washington e e che è complice di quella cricca che che impela bruxelles non gliene può fregar di meno della vita dei popoli ucraini della vita dei militari ucraini tanto non sono loro ad andare a combattere no questi mandano carne da cannone in prima linea che poi viene completamente falciata via dalle artiglierie per fare che cosa per favorire i loro profitti economici per favorire il gas americano perché esisteva un progetto un programma un piano già stabilito due anni fa per imporre drasticamente all'unione europea un'importazione del gas russo e per farlo sostituire con quello schifoso shell gas americano portato via nave e poi il gasificato per quello premono tanto sui sui gasificatori con tutti i rischi che comportano è una follia gli stessi dirigenti d'azienda gli stessi tutti coloro che che gestiscono grandi industrie che adesso sono tartassate dalle bollette non vogliono capire dove sta il problema non vogliono capire che questa classe politica sta li sta conducendo alla rovina favorendo un regime nazista su ordine degli stati uniti e della comunità europea non lo vogliono capire quindi io non è che chiedo ai cittadini di fare l'impossibile ma almeno ragionate ragionate con la vostra testa e agite di conseguenza prendete le nostre decisioni scegliete in tutta autonomia in tutta libertà da che parte stare io l'ho scelto anche perché nicola penso che tu come tutti quanti noi sarai stato invaso negli ultimi giorni da hai visto in quella trasmissione televisiva ora hai visto ora lo dicono quello che dici tu da due anni adesso l'hanno detto in quella rete televisiva in quella trasmissione ci sono delle trasmissioni televisive che stanno fortemente strizzando l'occhio ora magari qualche conduttore era realmente da questa parte aspettato un po tanto a dirlo però finalmente lo ha fatto meglio tardi che mai ma c'è un grave ritardo io però così come mi sento di dare questo consiglio di consiglio trattasi è quindi è la mia idea non prendetela come assoluto è il mio consiglio e non dimentichiamo perché siamo arrivati a questo punto perché insieme a draghi insieme a conte insieme a chi ha la memoria corta non è tanto un la pensano come noi e quindi vogliono in qualche modo la ronzulli che dice dimentichiamo pari e patta la meloni che cancella i tweet anche le trasmissioni televisive anche i giornali che adesso mettono determinate notizie e perché hanno avuto un crollo vertiginoso di vendita di giornali che già erano bassissimi prima adesso sono nulli e anche di auditel televisivo è vero che ad alto livello non si guadagna sull'auditel ma c'è tutto un sistema di propaganda però è anche vero che insomma devono giustificare a chi paga i media il fatto che i media influenzino un tot numero di persone così come lo fanno anche gli influencer quindi io vi invito anche a vedere come ci siano tutte le testate giornalistiche o molte testate giornalistiche molti giornalisti completamente sotto il controllo di qualcuno che si affrettano con questo leccaculismo e questo prostrarsi a draghi alla nato agli stati uniti a biden in qualche modo alla narra alla narrativa e ucraina e al e a zelensky che viene in qualche tutti devono fare la premessa che vi ricordate con ma io non sono contro il siero ma adesso tutti dicono no ma ricordiamoci che sono stati in basi ma e devono fare questo io non sono con putin ma perché altrimenti non li farebbero andare in televisione ma queste persone hanno bisogno degli ascolti quindi prendono il ricomonte sano alla trasmissione dove ballano in rai perché devono in qualche modo riportare qualche simpatizzante di una certa fazione a vederlo mettono delle trasmissioni in cui cominciano a fare delle finte inchieste perché poi qualcosa gli fanno dire ma poi si fermano per prendere e togliere un po' da l'esclusività di social come youtube e come telegram una parte di questa ideologia ecco quindi noi non dobbiamo anche fare l'errore che sia tutto finito che quindi possiamo starcene sul divano perché ormai è fatta no quindi è una partita scacchi loro hanno i loro piani fra l'altro chi chiama l'agenda draghi in realtà questa agenda draghi non è manco suo è un altro villa farisa servitore di qualcun altro quindi non sopravvalutiamo neanche le persone in sé ma avevamo un calenda che calendarenzi che volevano ancora tenere draghi e volevano portare avanti la stessa agenda abbiamo fra l'altro letta che in qualunque elezione negli ultimi degli ultimi anni sarebbe stato cacciato il giorno dopo aver avuto quel risultato in realtà rimane lì perché non volevano vincere e diciamo no no ma comunque sta facendo bene draghi lasciamo lui c'è un appiattimento totale e io ricorderò sempre che facendo zapping a casa di amici con la televisione becco un era italia 1 un opinionista che dice no vabbè ma magari la scarsa affluenza alle quando si trattò delle amministrative dove torino non andò quasi nessuno a votare mi sono no vabbè ma questa questa scarsa partecipazione è un sintomo di grande democrazia perché la gente si fila di draghi a tal punto che non va neanche più a votare per il sindaco di una città tanto c'è lui quindi ragazzi qua siamo veramente qua ci contendiamo con la corea del nord il livello di libertà ma la gente non se ne rende conto vanno a cercare i fascisti sotto il tappeto vanno a cercarli negli scaffali della cucina vanno a denunciare il vicino perché sono in cinque a tavola come gasman e come tanti altri burattini pagliacci di questo sistema e anche a loro non dobbiamo farla passare liscia come semplicemente boicottando c'è un film c'è gasman non vado mai più tanto non era neanche un attore prima figuratevi adesso quindi anche questa con questo nepotismo del lavorare perché tuo padre è stato una persona importante figuratevi io qua quanto c'è il dente avvelenato con i figli d'arte che vengono sparati ai piani alti solo perché portano il cognome di qualcuno ma manco fossimo nel medioevo quindi nel medioevo funzionava così adesso ci dovrebbe essere la meritocrazia non è così c'è il cantante ha straparlato il cantante non si va al concerto c'è la manifestazione dove c'è tizio non si va c'è questa cosa quindi ricordiamoci che come persone come numero di persone siamo molti di più di quelli che ci hanno fatto credere per un tot adesso non ci rimane che stringerci un pochettino contarci e far valere il fatto che è un segnale importante se tot persone scendono in piazza se tot persone non vanno più in quel supermercato perché ha fatto una pubblicità oscena con gente che al di fuori dell'emergenza ha la mascherina fin sopra i capelli e manco gli occhi si vedono non ci andiamo più quel prodotto a un testimonial non lo prendiamo più dove si vanno a colpire gli influencer tutto ciò che vanno in qualche modo sponsorizzando non si prende più non si tocca più quindi c'è un potere nelle mani di ognuno di noi che singolarmente si tende a sottovalutare ma come numero a livello di grandi numeri è un è un enorme potere il potere di spendere come riteniamo opportuno i pochi soldi che abbiamo il potere di decidere a chi darli e state tranquilli che io non li darò mai a qualcuno che ha sostenuto questa dittatura a qualcuno che ha sostenuto questa deriva orwelliana ieri fuori da un supermercato a firenze c'era un banchetto di amnesty international ci vengono spesso è tra l'altro fino a un mese fa stavano lì con la mascherina io ho sempre ignorati puntualmente ieri li ho visti senza mascherina mi si sono avvicinati mentre entravo allora ci ho fatto due chiacchiere e gli ho detto si amnesty international ma io non ce l'ho con voi 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 senz'altro ragazzi siete animati da buone intenzioni siete qui perché perché magari credete in quello che è un certo ideale ma dov'era amnesty international quando in buona parte del mondo si è instaurata questa dittatura sanitaria dov'era amnesty international quando in italia in austria in francia e in altri paesi è stato introdotto in nazi passi ha preso posizione ufficialmente amnesty international non mi risulta poi se lo ha fatto fatemelo sapere questi sono rimasti basiti sono rimasti a bocca aperta e non hanno neanche replicato ma fatele notare queste cose non perdete occasione di confronto di confrontarvi quando chiaramente c'è un confronto civile e pacifico fatene notare alle persone chiedeteli sempre sì lei mi propone questo ma lei dov'era quando hanno introdotto in alzipas lei come si è comportato come si è rapportato all'alzipas quando vi propongono vuole fare l'assicurazione con la nostra compagnia sì potrebbe anche interessarmi ma il dirigente della vostra compagnia ha imposto in alzipas a tutti voi dipendenti vero allora perché dovrei fare un'assicurazione con la vostra compagnia fate glielo pensare assolutamente penso che così magari torna anche qualche qualche discorso che abbiamo fatto su questa rete io mi ricordo di quando d'estate c'erano alcuni negozianti purtroppo la maggior parte nelle vie del centro di alcune città che dicevano eh questi contro il pass stanno esagerando con tutte queste manifestazioni tutti i sabati qui a rompere le scatole noi non riusciamo a lavorare ecco quindi la smettessero di manifestare e poi sono gli stessi che dicono scendete in piazza per le bollette perché io non ce la faccio ma scusa un po' cioè cosa pensavi che quella battaglia non ti riguardasse che non fosse un percorso già scritto e che anche il pass non fosse contro la tua attività che non ci fosse un disegno globale perché a questo punto diciamo è palese un disegno globale e che quindi stanno andando avanti per quelli che sono i loro piani che possono essere accelerati possono aver paura possono aver perso qualche battaglia sono marridotti sicuramente ma non hanno ancora perso del tutto quindi anche a chi vi dice tranquilli sul divano e lasciate fare che è già tutto fatto fa un danno certo che fa un danno per non parlare poi di tutte quelle catene commerciali che hanno lasciato intenzionalmente deliberatamente certi cartelli nel negozio vi faccio un esempio io i primi di settembre ero al mare e sono entrato in una libreria una nota catena una nota catena di libreria non voglio fare nomi tanto potete immaginare quali sono le più grosse catene in italia e sulla parete di questa libreria vedo un cartetto bello grande affiancato al cartello che imponeva l'obbligo della mascherina che chiaramente nessuno rispettava tranne qualche coglione ma anche perché era decaduto a livello normativo l'altro cartello quello a fianco di quello della Moseruola recitava testualmente per accedere a questo esercizio commerciale è obbligatorio esibire il nazi pass allora io sono andato dalla cassiera e l'ho detto mi scusi ma ma quel cartello è giù e spero che sia una dimenticanza ma non vi rendete conto di quanti clienti perdete perché io stesso se lo avessi visto prima di entrare non sarei entrato in questo negozio ah davvero certo e come me e tante altre migliaia di persone ma perché l'avete lasciato lì no guardi non dipende da noi dice è la direzione che ci ha detto espressamente di lasciare quei cartelli ce ne rendiamo conto io posso capire il il negoziante distratto che magari ha un piccolo esercizio commerciale che magari ha lasciato un cartello del genere in vetrina a parte vuol dire essere pazzi e vuol dire darsi la zappa sui piedi perché veramente c'è da perdere centinaia di clienti ma io posso capire ci sono veramente tanti negozi che ancora hanno lasciato questo cartello in vetrina ed è aberrante è aberrante ma il fatto che intere catene commerciali impongano ai loro dipendenti di non rimuovere certi cartelli dalla vetrina gli abbiano detto anzi lasciatevi mi raccomando non toccateli cosa si aspettavano una 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 recrudescenza delle restrizioni cosa si aspettavano un nuovo lockdown non lo so ma basta è ora è avvenuto il momento di dire basta boicottiamo tutti quegli esercizi commerciali che ancora espongono questi residuati non solo pandemici ma anche dittatoriali tutti questi frammenti di dittatura boicottaggio totale appoggio in pieno questo tuo messaggio al grido di io non dimentico e io non perdono c'è chi ha il dono di poter perdonare noi no e quindi noi non dimentichiamo e non perdoniamo e non ne lasciamo passare più mezza quindi anche se lasciano questi cartelli non perché ci credano perché potrebbero dire ma metti che torna allora te lo conservi in cantina perché posso capire che magari tu dici non voglio ristamparlo una seconda volta ma te lo tieni in cantina al buio in modo che nessuno possa vederlo lasciarlo lì è un po un messaggio a chi comanda qua visto io bravo io io sono stato il primo fatto è quindi ricordati di me se ne ricordano con altra bolletta peggio di quella di prima che è arrivata quindi questo è il loro ringraziamento e se lo devono ricordare la fine che fanno tutti i collaborazionisti e i fantocci di questi burattini di questi governi oscuri di chi controlla realmente che cosa fanno loro non ti mettono mica in cantina fanno tutti una brutta fine i collaborazionisti se lo devono ricordare perché il tempo in questo senso stringe nicola io ti ringrazio di cuore anche per aver trovato il tempo anche questa sera in mezzo ai tanti impegni che abbiamo in questi giorni ti mando un abbraccio fraterno per esserci sempre e per fare di tutto per essere sempre insieme a noi settimanalmente è un appuntamento graditissimo quello insieme a te sono sicuro che tutto il pubblico da casa i fedelissimi veterani gli abbonati gli arrivati all'ultima ora chi non vede l'ora di ascoltarci e di ascoltarti in diretta una bella cascata di home ricordiamoci che siamo tanti e quindi un messaggio di speranza pare brutto ma riappropriamoci di questa parola quindi positività e speranza sono le parole che dobbiamo togliere da quello che negli ultimi due anni non a caso hanno voluto indicare quindi grazie nicola ti lascio la conclusione grazie a te come giustamente detto prima la storia siamo noi e in questa fase veramente delicata in questa fase problematica in questa fase di grandi trasformazioni esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia facciamola anche noi la storia facciamola in prima persona possiamo veramente cambiare tanto grazie di cuore appuntamento alla prossima grazie a mesbet in regia come scrisse george orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale youtube ideato e diretto da gianluca lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21 e 30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te basterà seguirci a te basterà Grazie a tutti.